Cristian Piacentini, miglior giocatore e quindi Oscar di terza categoria, ti chiedo innanzitutto che soddisfazione è essere stato scelto non tanto dai giornalisti ma dai giocatori, dai direttori e dagli allenatori della tua categoria? Una bella soddisfazione, per me è la prima volta, sono contento, è stata una grande stagione, ringrazio la società, il mister che mi ha dato grande fiducia e sono contento. Secondo te quali sono stati i giocatori che potevano ambire a questo premio che hai incontrato durante il campionato e perché secondo te li hai sopravvanzati di quel poco che ti fa tenere il premio in mano? Penso l'attaccante d'Alverola ha fatto una buona stagione, ora non ricordo il nome, forse sicuramente dal punto di vista della qualità magari avevo qualcosa di più. ho iniziato con qualche difficoltà però dopo me lo sono meritato, credo. GSR, primo anno di categoria, diciamo una squadra nuova, ti chiedo come è stato il primo contatto con questa realtà e insomma di parlarci un po' anche della realtà GSR, qual è stato il vostro punto di forza per poi vincere un campionato attraverso lo spareggio proprio contro il vero o la vecchia? Allora il primo contatto è stato con Maifredi, conoscevo già il direttore Franco ma anche Simone Maifredi, il mio compagno, abbiamo giocato l'anno precedente a Puma e Nengo, abbiamo vinto il campionato in seconda categoria e quindi il primo contatto è stato con loro. la società ho trovato, secondo me il punto di forza è stato l'entusiasmo, ho trovato una società nuova che con l'entusiasmo, con la voglia di vincere, con la mentalità che ci ha dato insomma siamo riusciti a creare un bel gruppo e arrivare al risultato anche magari con un po' di fortuna nel finale però eravamo la squadra migliore alla fine abbiamo meritato. Ecco sei rimasto giusto in squadra e quest'anno hai già vinto un campionato in seconda, la società ci hanno appena detto è comunque ambiziosa, secondo te è possibile il doppio salto? Ma la squadra l'abbiamo rinforzata molto, secondo me possiamo fare un campionato di vertice, dobbiamo migliorare, il campionato già dalla prima giornata si vede che è più tosto, è più equilibrato e sarà difficile ma ci sono i presupposti per fare un campionato di vertice, speriamo. Grazie mille. 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 Grazie mille.